Si respira aria di sport a Palazzo San Giacomo. Questa mattina l'assessore allo sport Ciro Borriello, presso la sala giunta, ha incontrato lo staff della Gevi Napoli Basket in occasione dell'avvio della stagione. Presenti all'evento anche il presidente del Napoli Basket Federico Grassi, il coach Gianluca Lulli, nonché il team al completo. L'obiettivo è quello di Sarina, anche se siamo partiti con un po' di ritardo e l'abbiamo visto nella prima partita, dove abbiamo un po' accusato la preparazione dell'ultimo quarto. Però la nostra idea è di salire anche per riportare Napoli in Serie A. Al termine dell'incontro, un sentito scambio di doni tra la dirigenza e l'assessore che rafforza la collaborazione tra la città di Napoli e la squadra. Quarta è una nuova avventura, questo è importante. Nonostante il cambio societario, riusciamo a conservare un livello dignitoso di basket, quindi una Serie B che è importante, autorevolissima, con squadre competitive. Quindi nasce un nuovo progetto ed è bello farlo partire anche da Napoli, da San Giacomo e augurare loro la migliore fortuna sportiva. Però l'importante per Napoli è avere la squadra di basket, questo per noi è un obiettivo e con questo lo stiamo raggiungendo. Grazie. Grazie.